Bene, in questo video parliamo di come attivare i poteri mentali, capacità latenti della mente utilizzando il metodo dello spirito guida. È una meditazione molto profonda che ci permette di entrare in contatto con una parte importante di noi o entrare in contatto con delle parti che potrebbero essere esterne a noi ma a cui siamo collegati attraverso lo stato di vuoto mentale che andiamo a creare per ottenere delle guide, delle indicazioni. Ti chiedo di metterti in una posizione comoda, rilassato, con la schiena retta e di ascoltare il suono della mia voce con gli occhi chiusi. E mentre sei con gli occhi chiusi ed ascolti il suono della mia voce e respiri, puoi portare l'attenzione sull'aria che entra e che esce dai tuoi polmoni. E via via che continui ad ascoltare il suono della mia voce e respirare ti rilassi sempre di più. Il tuo respiro diventa il respiro del mare, il respiro dell'universo. E il tuo cuore batte in modo calmo e regolare, come calmo e regolare è il tuo respiro, come calmo e regolare è il respiro del mare, come calmo e regolare è il respiro dell'universo. E ti chiedo, mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce, di intraprendere un viaggio, un viaggio all'interno di te stesso, un viaggio alla scoperta di quelle enormi risorse presenti in te che non attendono altro che essere scoperte ed utilizzate. E mentre continui ad ascoltarmi e a rilassarti sempre di più, entra dentro te stesso. Lascia che una parte di te stesso esplori, esplori l'altra parte, scendi via via sempre più al tuo interno, come un esploratore. Entra dentro te stesso, inizia a viaggiare nei meandri nascosti della tua mente. Lasciati andare tranquillamente, come in un viaggio in ascensore, si è trascinati verso il basso, si sente una spinta verso il basso, così tu abbandoni ogni resistenza ed entri al tuo interno. e ti chiedo, mentre continui a scendere verso il basso, all'interno dell'edificio del tuo rilassamento, alla scoperta di te stesso, di respirare tranquillamente. E via via che respiri e ti rilassi sempre di più, qualcosa di molto interessante può apparire davanti a te. come quando d'inverno ti muovi in macchina nella nebbia, ti chiedo di immaginare una nebbia, una nebbia molto fitta davanti a te. Puoi guardarla, puoi cercare di percepire oltre la nebbia. e se guardi bene, forse qualcosa può apparire, perché questa nebbia inizia a diradarsi, ed irradandosi la nebbia puoi scorgere una figura al di là della nebbia. Questa nebbia che ci tiene legati a questo mondo, perché oltre alla nebbia entri in un altro mondo, in un'altra dimensione, in un altro spazio, in un altro tempo. e puoi scorgere un simbolo, una persona, un qualcosa di molto particolare e significativo. E adesso ti chiedo di osservare esattamente ciò che vedi al di là della nebbia. Guardalo e cerca un'intesa mentale, con qualunque cosa ci sia al di là della nebbia. E ti chiedo, mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce, di fare un'unica domanda. Un'unica domanda a ciò che hai scorto al di là della nebbia. Una domanda legata alla tua crescita interiore, ai tuoi poteri personali, a come sviluppare la tua forza interiore. Un'unica domanda. E mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce, e hai fatto quest'unica domanda, o mentalmente ho dato voce a non importanza, ti chiedo di ringraziare per l'eventuale risposta. Che arriverà qui ed ora, o là ed allora, adesso o in un altro momento dello spazio-tempo, non importa. Adesso lascia che si riformi la nebbia tranquillamente, e questo è ciò che hai visto, ritorni nel suo mondo. E tu puoi ritornare nel tuo mondo. Iniziare a respirare tranquillamente. Inspirare profondamente, trattenere l'aria per alcuni istanti ed espirarla fortemente fuori con la bocca. Fai questo per tre volte. E alla fine della terza volta ti sentirai bene, tranquillo e rilassato, con la consapevolezza di aver vissuto qualcosa di importante, e riceverai una risposta importante, poi apri gli occhi tranquillamente. Bene, questa è una meditazione molto importante per entrare in contatto con energie, dicevo, che possono essere dentro di noi o fuori di noi, non è importanza, perché per la fisica quantistica noi siamo energia, e quindi siamo collegati con tutto ciò che ci circonda. Spazio e tempo sono delle illusioni, e quindi possiamo andare ad attingere direttamente dal campo, dalla matrice, diciamo, delle possibilità, dalla matrice delle infinite varianti, e ricevere proprio la risposta di cui abbiamo bisogno. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo video, vi invito a seguirmi anche sul blog, http.vv.seduzionevip.com Ciao a tutti!